Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Si è verificato purtroppo un evento tragico nei giorni scorsi in Romagna, terra splendida che è stata nuovamente colpita dall'alluvione come già accadde meno di due anni fa. Dunque è una vicenda davvero tragica, portiamo nel nostro piccolo la massima solidarietà al popolo della Romagna, un popolo industrioso e solare che è stato nuovamente colpito da una calamità. E a questo riguardo si discute indefessamente sull'entità di questa calamità. Si tratta del cambiamento climatico, dicono taluni. Tesi che si può certamente discutere criticamente, soprattutto bisogna a mio giudizio riflettere anche se accanto al cambiamento climatico di cui tanto si discute non vi sia anche un problema più propriamente umano. Sono stati fatti tutti gli aggiornamenti per la sicurezza, sono stati messi in sicurezza i fiumi che hanno tracimato, si è gestita adeguatamente dopo l'alluvione di nemmeno due anni fa la situazione, sono stati fatti tutti gli interventi di manutenzione necessaria? Sono domande credo doverose che dobbiamo porre senza la volontà di accusare nessuno ma semplicemente per ragionare criticamente su questo accaduto. In particolare bisognerebbe pur notare che il governo italiano continua a spendere, direi a sprecare i soldi per le armi all'Ucraina e per le guerre, forse sarebbe bene che li investisse per la tutela nazionale, non solo per la sanità e per la scuola ma anche a questo punto per la messa in sicurezza dei territori.